L'assalto è di quelli pacifici, palloncini gialli lanciati da un'imbarcazione nel porto di Bari che per Coldiretti però hanno una valenza simbolica, contrastare l'arrivo in Italia di grano estero che per l'associazione di categoria finisce sulle tavole italiane dopo essere stato lavorato dai pestifici di casa nostra. L'iniziativa di Coldiretti Puglia è contro la presenza di due navi nel porto di Bari, la Federal Danube proveniente dal Canada e battente bandiera cipriota carica di 23.000 tonnellate di grano e la Pigros proveniente da Antigua Barbados con a bordo 4.000 tonnellate sostengono da Coldiretti. Non ci convincono le procedure, i protocolli che vengono adottati, questo prodotto viene anche analizzato in una percentuale del 10% e l'entità che viene prevista dal regolamento comunitario però poi alla fine praticamente il prodotto va fuori del porto e io non so quanto sia poi ritracciabile quel carico qualora dopo una settimana dovessero venire fuori problemi di carattere anche igienico-sanitario su questo prodotto. La vigilanza di Coldiretti in questi giorni non è solo in mare, alcune vedette hanno seguito i camion carichi di grano e altri prodotti commerciali dal passo del Brennero fino a destinazione. Per l'organizzazione agricola in Italia sbarcano regolarmente cibi esteri della cui salubrità è bene dubitare senza considerare il danno economico per i produttori italiani. I pastifici per esempio utilizzerebbero solo il 20% di prodotto pugliese, Coldiretti invoca la difesa del Made in Italy. Chiede l'origine obbligatoria perché non possiamo mettere dazzi, non possiamo chiudere le frontiere, stiamo in un mondo globalizzato, ci crediamo e ci rimaniamo però riteniamo che il consumatore abbia il diritto, il dovere di sapere quello che mangia.